Abbiamo sentito anche dire che la Turchia è importante perché è un pilastro della Nato. Non ci ha però detto che alcuni ufficiali turchi della Nato stanno chiedendo asilo politico all'Europa perché pensano che da un momento all'altro potrebbero essere incarcerati e magari un domani fucilati. Questa è la situazione di un Paese che è fuori dalle regole, oltre che dalla visione morale storica della nostra democrazia europea. È un Paese, è un regime con il quale noi, a differenza di altre situazioni, avremmo già dovuto prendere delle sanzioni e allora bloccare definitivamente le trattative. E semmai nei confronti dei pericolosissimi, perché non sono pericolosi oggi i profughi siriani, sono pericolosi gli uomini della Turchia in mezzo a noi, in Germania, e voi non ve ne accorgete. Fate una bella pulizia in Germania degli uomini, delle spie del regime turco che sono pronti a devastare la nostra democrazia. E invece non lo stanno facendo, cattivi tedeschi che non liberate il nostro Paese. Ci vuole altro che clown, ci vorrebbe la cura Trump per liberare l'Europa da certi pericoli. La cura Trump! Le dico già subito che non l'accento il suo cartello blu, perché non avete diritto a parlare sulla Turchia. Voi avete aperto le porte della Turchia e i poveri profughi siriani, per gioia, per gioia, per gioia. Il prossimo parere sarà il signor Proc. Il signor Epizidea.